Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il liceo artistico Grue vuole diventare scuola rara, sarebbe la quarta in Italia, insieme ci sarebbero la liuteria di Cremona, la scuola del marmo di Carrara e la scuola di Capodimonte, una denominazione che permetterà all'istituto di evitare gli accorpamenti nonostante i numeri contenuti che la scuola ha sempre avuto, e le permetterà di continuare la sua vocazione ceramica che va avanti dal 1906. A livello amministrativo darebbe la possibilità di sopravvivere a quelli che oggi vengono chiamati accorpamenti, o comunque a politiche che sono legate prettamente al numero, al numero degli studenti che frequentano la scuola. Numeri che in questa istituzione, dalla sua fondazione nel 1906, sono sempre stati bassi o contenuti, rara questa scuola lo è. Basti pensare a quanto sia legata all'artigianato artistico, basti pensare a come sia a baluardo di questo introterra montano, basti pensare a ciò che si cerca di fare di nuovo all'interno della scuola. È una scuola che cerca di rinnovarsi, ma tenendo sempre piede dentro la tradizione artistica della maiolica castellana, italiana, e quindi una forte connotazione che diamo a questo nostro territorio. Per voi invece quanto è importante? È importantissimo. Sarebbe anche il giusto riconoscimento a chi fa un gran sacrificio importante, svegliarsi la mattina alle 6 e mezza, prendere la corsa delle 7.05 a Teramo, e venire qui per stare alle 8, 8.05. E poi fare lo stesso percorso a ritroso. Ecco, chi viene qui fa una scelta, scelta che andrebbe ricompensata, almeno sapendo di fare qualcosa di unico e di raro. Il Comune, insieme alla scuola, sta cercando da diversi anni di portare la richiesta al Ministero, che dopo aver ricevuto le motivazioni da parte dell'Istituto e il parere di provincia e regione, dovrà decidere. Io accolgo con grande favore il fatto che c'è un'unione di intenti da parte dell'amministrazione provinciale, dalla dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, dai sindacati, che è stato espresso chiaramente nel tavolo, di fare quadrato intorno al liceo artistico di Castelli e questa progettualità. C'è un po' il timore che la tradizione venga persa? Ma in generale, noi qui da Castelli, parlando della scuola, ma in generale lanciamo un allarme. Cioè, secondo il mio punto di vista, la politica che guarda soltanto i numeri è una politica sbagliata, perché porta al completo depauperamento dei centri interni, perché vengono chiuse le scuole, si tolgono gli uffici postali, oppure altri servizi solo perché si guarda esclusivamente ai numeri. Allora, una comunità, un comune, per ritenersi tale, deve avere almeno quel minimo di servizio, che sono l'istruzione, che sono i trasporti, che sono le connessioni, che sono la sanità. Cioè, quel minimo di servizio ci deve stare, a prescindere del numero degli abitanti. E questo è un ragionamento fondamentale, perché, come dire, permette la conservazione in tutti i luoghi, anche dell'entroterra, della presenza dell'uomo.